Spaventano le immagini degli eventi meteorologici critici che hanno colpito la Spagna nei giorni scorsi. In ginocchio soprattutto la regione di Valencia, dove le strade sono state inondate di correnti d'acqua che hanno spazzato via tutto ciò che hanno incontrato. Il bilancio è pesantissimo, almeno 70 morti accertati tra cui alcuni bambini. Il governo Sanchez ha mobilitato l'esercito per assistere la popolazione in estrema difficoltà. La tempesta si è poi abbattuta sull'Andalusia e sulle province di Castellon, dove ha proseguito la devastazione e ha causato ulteriori danni. Proprio in Andalusia, un treno ad alta velocità con quasi 300 persone a bordo è deragliato a causa delle drombe d'aria che si sono generate. Gli eventi in Spagna sono solo l'ultimo episodio di una lunga serie che sta colpendo in tutto il mondo. Nel solo periodo tra 2014 e il 2023 sono aumentati del 61% gli eventi estremi di precipitazione rispetto al periodo 1961-1990.